volete abbassare il vostro score gioco corto è la soluzione ma non è solo una questione di tecnica ma è fondamentale che fatti un allenamento valido in questo video vi da tre esercizi fondamentali per migliorare il tuo gioco corto ok esercizio numero uno colpa a correre io uso qui il ferotto colpa a correre è fondamentale che avete dentro la sacca e va praticato io vedo tutti quanti che vuole alzare la palla sempre col sand col lob quella va bene ma avete bisogno di avere il colpa a correre dentro la sacca allora ferotto cosa facciamo siamo qui con quattro palle ho messo anche 4 t sul green e vi faccio vedere il primo t che sta qua questo è sette metri secondo t dieci metri terzo t 15 l'ultimo t laggiù in fondo 20 metri questo è un lavoro di distance control si fa prima in salita poi si fa un altro allenamento in discesa si fa uno con un pendenza da sinistra destra magari uno da destra e sinistra così quattro palle per volta per quattro volte fa 16 spero allora tecnicamente cosa vogliamo di colpa a correre piedi molto più uniti ok larghezza del testo del bastone impugna il bastone più corto non mi serve potenza né distanza allora impugna molto più corto sento il peso più a sinistra c'ho tipo 10 per cento in più di mio peso sulla gamba sinistra la mani davanti all'interno coscia la braccia formato una linea dritto o quasi formato una lettera y tra il shaft e le due braccia il mio obiettivo è mantenere questo y durante il mio movimento ok la palla va posizionato centrale può essere leggermente a destra volendo ma a me mi piace molto centrale e io devo stare molto vicino alla palla ok più che sto vicino più riesco a muovere il bastone in modo lineare dritto più sto lontano più divento un arco più difficile gestire l'impatto e l'angolo di attacco allora mio obiettivo tirare la palla la prima palla verso primo t di 7 metri facciamo questa prova faccio un paio di prove mantengo mio y cerca di tenere i polsi abbastanza passivi diciamo non devo usare troppo la mani e non devo usare il peso che mi va a destra deve stare sempre sulla sinistra semmai aumenta la sinistra con piccola rotazione del bacino per mantenere mio y semmo facciamo la prima prova ok molto buono fino lì vado bene passiamo la seconda distanza 10 metri a 7 metri passiamo 10 faccio le prove mentre che faccio le prove come il pazzo guardando dove deve andare sto muovendo il bastone creando una sensazione di lunghezza velocità del swing è giusto per questa distanza c'è un po di pendenza anche a destra è un po in salita bene ho zeccato le distanze anche qui allora passo il terzo terzo e 15 metri preso una buona sensazione peso sinistra la cosa bella di questi colpi leggermente lungo questo la cosa bella di questi colpi quando faccio col ferotto il movimento è poco è molto semplice allora non c'ho bisogno di fare tanto swing allora l'errore meno grave è sicuramente c'ho più sensibilità per questo colpo allora passiamo all'ultimo l'ultimo t quella di 20 metri cerchiamo di creare la sensazione giusta per la distanza metto in posizione miro questo un po più dritto forse curva di meno alla fine ho preso bene sono contento leggermente corto ma va bene sta a circa un metro allora se vedete qui sono andato abbastanza bene c'ho da migliorare le distanze un po più lungo un elemento che va fatto questo vi aiuta tantissimo a migliorare vostro distance control con i feri a correre usando ferro 8 passiamo a esercizio numero 2 ok esercizio numero 2 pitching voglio fare una palla che se salta in aria batte e poi ovviamente rotola ovviamente questa è una palla che rimane un po più in aria rispetto a quanto rotola io qui uso un 58 questo esercizio è distance control in volo dove atterra la palla ok allora praticamente se vedete qua ho messo sei bastoni per terra due a circa un metro di distanza uno dall'altro a cinque metri di dove sto tirando questo sta a cinque metri secondo sta a dieci metri ok le distanze tra i due bastoni tra uno e l'altro circa un metro e mezzo e l'ultimo sta a 15 metri e c'è circa due metri ok di distanza tra un bastone e l'altro allora cinque dieci quindici l'obiettivo che mio palla devo battere dentro io devo approcciare bene i professionisti quando fanno la prova e non sta facendo la prova verso la buca ma sta facendo una prova in base di dove atterra la palla perché loro hanno calcolato la palla batte lì e rotola verso la buca da quel punto allora allenare proprio distance control in volo è fondamentale allora io ho il 58 puoi usare un 54 un 56 quelle che rimanete più comodo qui un pugno corto piedi sempre molto vicini i talloni guarda massimo di un bastone io tengo magari il punto del piede sinistra leggermente in fuori più faccio appoggiare il mio peso sulla sinistra e mi permette anche ruotare bene il bacino davanti fondamentale distanza della palla sto sempre abbastanza vicino non come a correre ma non sono troppo lontano non voglio creare questa rotondità una distanza che c'è una bella connessione tra braccia e corpo il mio movimento deve essere una cosa per il primo di cinque metri breve quello che è importante io sento spazialmente dell'erba io sento il bounce la parte sotto del bastone che scivola sul terreno e cerca di ruotare insieme col corpo sono bello connesso qui ho lasciato addirittura la braccia piegare un po ma non ho usato troppo i polsi indietro i polsi si carichano un po perché adesso sto facendo un swing un po più veloce deve fare una palla un po più alto allora facciamo il primo che sta qui a cinque metri ha l'obiettivo tira due palle per ogni obiettivo ok voi fate con cinque palle per ogni obiettivo l'obiettivo è eliminare una di queste distanze allora se io mando una palla dentro quella distanza è eliminato posso passare al secondo ok allora proviamo col primo io ho solo due possibilità speriamo che riesco a fare qualcosa di buono leggermente prima riproviamo ho solo due possibilità per eliminarlo peso un po sinistra palla centrale frazione sinistra un po di polsi e dentro eliminato il primo sono contento anche se non elimino il primo passa comunque al secondo e devo tornare al primo io ho già eliminato non deve tornare più passo il secondo ho due palle su in più lungo un po più veloce più rotazione vediamo 10 metri troppo lungo ha fatto circa mezzo metro forse anche un metro in più cerca di rifare prende la sensibilità del colpo per un pello non è fatto non è eliminato adesso passa il terzo e deve tornare dopo al secondo questo è 15 metri movimento un po più lungo se vedi che gira un po di più davanti cerca di tenere il peso sempre sinistra sente il bounce il bastone che mi lavora questo è fantastico ma era un frazione sinistra dei bastoni la distanza azzeccato ma un po fuori allora per me non conta io voglio essere ancora più preciso sul colpo e batte proprio dentro vediamo se riesco a farlo l'ultimo fatto bene questa bella ho un pelo prima quasi fatto ma questo allenamento è fantastico per imparare gestire il volo della palla in distanza dove terra precisamente su tutti i vari distanze le fai in salita le fa anche in discesa fate questo lavoro e vedrai che differenza che fa esercizio numero 3 allora questo facciamo usando la buca e la bandiera noi prendiamo cinque palle qui l'obiettivo semplicemente imbucare noi pratichiamo spesso cercando di avvicinare la buca che è giusto con giusta distanza alle giuste linee eccetera eccetera ma ogni tanto allenare solo il fatto di imbucare ti permette secondo me concentrare ancora un po di più per creare quella cosa magico che ti permette imbucare allora scegliete il bastone che volete usare ho usato l'otto dipende dalle distanze 54 58 60 quelli che io ce l'ho il 58 io c'ho cinque palle vediamo se sono capace di imbucare una palla in queste cinque palle qui c'è un colpo di circa 15 16 metri allora va un po in salita poi va in discesa pende a destra c'è un po di aria contro laterale vediamo vediamo se riesco imbucare uno io sono convinto che posso farlo vediamo cinque palle ok se vedi per imbucare ci vuole giuste linee giuste forze qui ci aveva le giuste forze ma non ho pensato mette vicino sto pensando di imbucare allora frazione più sinistra questo giocato bene preso anche un po di spin è messo fermato sopra va bene sono contento riproviamo un altro questo è buono dai rotta la niente male facciamo due da down the line facciamo una prova da qui indietro così vedete anche il mio movimento da indietro può essere questo vai vai no sul bordo ci siamo quasi l'ultima possibilità mio quinto è l'ultima possibilità dai magari faccio boccette qui no troppo adesso troppo corto ma vedendo questo se vedi benissimo che io ero concentrato solamente imbucare ma per imbucare ci vuole la giusta linea e la giusta forza allora io ero proprio preso con il colpo il mio livello di concentrazione è alta alzato tantissimo rispetto a un colpo normale allora fate queste tre esercizi lavorate bene e vedrai che differenze che trovate in campo anche livello di score be your best se questo video ti è piaciuto schiacciate il bottone like e condividi con un amico puoi cliccare sulla campanella vicino subscribe per non perdere più un video come questo